Sicurezza ed immigrazione, un tema particolarmente importante per Taranto alla luce dei vari sbarchi che si sono succeduti. Ne parliamo con l'Avvocato Giacomo Conserva, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno del candidato presidente della coalizione di centrodestra, Raffaele Fitto. E' uno dei temi di cui la Lega ne ha fatto una crociata e una bandiera. Anche quando siamo stati al governo a livello nazionale ci sono state delle leggi importanti, proprio volute e cercate dalla Lega. Parlo prima su tutta la legittima difesa, il codice rosso sulle donne, quindi per la Lega la sicurezza viene prima di ogni altra cosa. E' la faccenda immigrati, seppur qualcuno demagogicamente parla e la banalizza. Io vorrei invece focalizzare l'attenzione dei nostri telespettatori sul fatto che negli ultimi mesi gli immigrati si sono decuplicati rispetto a quando Salvini era il ministro degli interni. Quindi che cosa fare? Anche l'hot spot di tanto abbiamo visto che è diventato un ricettacolo di persone che alla fine non sono quelle persone che meritano asilo, cioè le persone che vengono da paesi poveri, da paesi dove c'è la guerra. Abbiamo visto anche che ultimaventate arrivano dalla Tunisia. Quegli hotspot sono chiaramente dei ricettacoli anche di contagio dove non vi sono norme minime sanitarie neanche per gli stessi giornalisti e neanche per gli stessi agenti che sono lì a tutelare la sicurezza. Questo per dire cosa? Perché ormai sui social è quasi diventata una barzelletta, cioè essere razzista, essere fascista è un'altra cosa. Rispettare le regole, rispettare i paesi degli altri. Parliamo dei principi cardine che devono sussistere alla base in ogni comunità e in ogni Stato. Io dico così come dice sempre il nostro leader Matteo Salvini che è bene accogliere le persone che vengono chiaramente da guerra, bisogna individuarle, bisogna identificarle. La Unione Europea deve, così come previste dai trattati internazionali, darci una mano a ridistribuire tutti gli immigrati tra i vari Stati europei.